Lo Stato non scende a patti con chi minaccia. Al culmine di una settimana di mobilitazione anarchica in Italia e all'estero, in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito, la linea del governo non cambia. Dopo Berlino e Barcellona, le ultime azioni di rappresaglia e di intimidazione sono state a Roma, ma l'esecutivo esclude qualsiasi forma di cremenza verso il militante detenuto alle 41 bis che da più di 100 giorni è in sciopero della fame proprio per protestare contro il regime di carcere duro che sta scontando per le sue condanne. Prima gli scontri, ieri sera a Roma, a Trastevere, nella manifestazione anarchica contro il 41 bis in solidarietà per Alfredo Cospito, detenuto in regime di massima sicurezza. Un poliziotto ferito alla testa, lanci di bottiglie e fumogeni, una persona fermata, 41 identificate e denunciate. Poi nella notte, una Molotov lanciata contro il distretto di polizia Prenestino, le fiamme fortunatamente subito spente. Non solo in Italia, la tensione cresce in tutta Europa per l'escalation dell'offensiva anarchica, annunciata da una chiamata internazionale all'azione, lanciata sui siti della galassia anarchica per ribadire solidarietà a Cospito. Iniziative eversive contro le quali il governo ha annunciato la linea dura. Azioni del genere non intimidiranno le istituzioni, tanto meno se l'obiettivo è quello di far allentare il regime detentivo più duro per i responsabili di atti terroristici, ha affermato la Premier Giorgia Meloni. Lo Stato non si lascerà mai intimidire e condizionare le parole del Ministro dell'Interno Piantedosi. Azioni più o meno eclatanti come quelle di venerdì scorso contro le nostre sedi diplomatiche, il Consolato italiano a Barcellona vandalizzato e l'auto del primo consigliere dell'Ambasciato italiano a Berlino data alle fiamme, bruciati alcuni cavi dei ripetitori sulla collina di Torino e poi proiettili indirezzati al direttore del quotidiano il tirreno e al procuratore generale Francesco Saluzzo. Condannato a vent'anni per una serie di attentati, Cospito è il leader della federazione anarchia informale responsabile di oltre 50 attacchi in Europa. In sciopero della fame da 101 giorni Alfredo Cospito ora rischia la vita e va trasferito in una struttura adeguata. L'allarme lanciato dal cardiologo che oggi l'ha visitato si starebbe valutando di spostarlo dal carcere di Sassari a quello di Cagliari dove riceverebbe cure più adatte in attesa che la Cassazione si pronunci sul ricorso presentato dal suo legale contro il regime del 41 bis.